Salve a tutti, sono il dottor De Mari, farmacista, esperto in fitoterapia. Un grande risultato abbiamo raggiunto e ottenuto questo mese insieme alla signora Maria. Insomma, la signora Maria ci contatta, contatta lo staff e il dottor De Mari, compila il questionario che ci inoltra e ci ha contattato per una problematica di cui soffre da tanti anni, ovvero la presenza di un muco abbondante nelle feci. Muco abbondante nelle feci da tanti anni, quindi parliamo di muco orrea. Ora spieghiamo alla signora Maria che la muco orrea dipende da un'infiammazione della mucosa intestinale. Andiamo ad approfondire con le domande che facciamo alla signora Maria e scopriamo che è anche estitica, ha acidità di stomaco, un senso di pesantezza ogni volta che mangia, soffre di insonnia e ovviamente soffre anche di cellulite. Le spieghiamo che è tutto strettamente correlato, infatti andiamo ad analizzare, approfondire le abitudini alimentari fino a quel momento, scopriamo che mangia molto glutine, molti zuccheri semplici, quindi alimenti con alto indice glicemico, scopriamo che mangia molta caseina, molto lattosio, molta carne rossa, molti affettati, insomma una serie di gruppi alimentari che entrando in contatto con il nostro intestino sostengono una infiammazione intestinale. Ora questa infiammazione intestinale provoca una disbiosi, la disbiosi, quindi i batteri della flora batterica intestinale che ci aiutano a digerire gli alimenti non funzionano più, quindi cosa succede? Questi possono, dato che l'intestino non riesce più a digerire, è come se chiede aiuto allo stomaco, allo stomaco aumenta l'acidità. Ecco come abbiamo collegato le problematiche collegate all'alimentazione con le problematiche dello stomaco. Un senso di pesantezza, tutto questo chiede aiuto anche al fegato, il fegato è sempre più appesantito, deve lavorare di più e quindi questo senso di pesantezza nel momento in cui mangio qualsiasi alimento. La mucorrea perché? Perché il nostro intestino è costituito da cellule che secernano un muco proprio per difendere la mucosa intestinale, altrimenti si va facilmente in permeabilità intestinale, si irrita e via dicendo. Come abbiamo agito? Abbiamo eliminato o comunque ridotto drasticamente i gruppi alimentari che creano infiammazione intestinale, glutine, caseina, lattosio, zucchero semplice, il lievito, soprattutto la carne rossa, gli affettati, le solanacee, pomodoro, melanzane, peperoni e patate. Tutti questi alimenti per motivi differenti sostengono quella famosa infiammazione intestinale e quindi muco. Li abbiamo eliminati, abbiamo creato un'alimentazione, un piano alimentare specifico per la signora, abbiamo aiutato con la fitoterapia due tinture madri, una è la syscrespino. La syscrespino da una parte ha un'azione antinfiammatoria importante, dall'altra va a riequilibrare gli zuccheri a livello del fegato, ma soprattutto va a chiudere le giunzioni occludenti, quelle giunzioni che si aprono quando ha un problema di permeabilità intestinale. L'uncaria, la sysuncaria, è un immunomodulante in grado di riequilibrare la flora batterica intestinale, molto importante come immunomodulante per tutte le persone che hanno patologie autoimmuni. E vi ricordo che l'innesco delle patologie autoimmuni potrebbe dipendere proprio da questa permeabilità intestinale. Abbiamo utilizzato l'oxy-stress, contiene il NAC molto importante, che mi crea una pellicola protettiva a livello della mucosa intestinale, se io la voglio rigenerare. Abbiamo utilizzato una composizione di probiotici e prebiotici, il Florafit, e abbiamo dato la mattina, a giorni alterni, come da piano alimentare, la sysananas, quindi la tintura madre di ananas, insieme a mezzo litro di acqua portata a punto di fumo, con mezzo limone all'interno. Questo ci dà una buona azione antinfiammatoria dei tessuti, oltre all'azione drenante, oltre alla sua azione di attivare gli insibi digestivi. Insomma, consigliato questo, dopo un mese la signora ci ricontatta, ricompila di nuovo questionario, ha risolto finalmente i mucchi nelle feci. Quindi dopo tanti tanti anni non ha più questo problema, solo in un mese. Una cosa fantastica, ci scrive che comunque sia si sono molto ridotti, ma le presenta ancora pochino, pochino, pochino di mucchi quando si sente stressata nei confronti della figlia. Quindi ha relazionato finalmente questo problema allo stress. Tutto il resto delle sintomatologie, la stitichezza, l'acidità di stomaco, il senso di pesantezza sono passati. Ovviamente la cellulite ci dovremmo lavorare e l'insonnia anche. Ora, come andiamo ad approcciare? Continuiamo l'esclusione di questi alimenti per un secondo mese. Ovviamente la signora non sarà contenta, ma dobbiamo farlo. Utilizziamo l'inflagen che contiene curcumina, berberina o omega 3. La curcumina è un antinfiammatorio molto importante. La berberina appunto è questo crespino che ci aiuta sempre nel chiudere le giunzioni serrate. E l'omega 3 è proprio, proprio importante come antinfiammatorio generico. Continuiamo con dei fermenti lattici. Io utilizzo il Florafit. Continuiamo e introduciamo il Melised, che è un complesso di tinture madri a base di melissa, camomilla, che vanno a riequilibrare tutti i neurotrasmettitori dello stress. Quindi se ho cortisolo alto, serotonina bassa e via dicendo. E ovviamente continuiamo al mattino in acqua calda, la sissananas e un pochino di limone spremuto. Attendiamo il prossimo mese e vediamo cosa succede. Grazie dell'attenzione, ciao!